Io sono l'architetto Sergio Bizzarro, specialista nella progettazione di hotel, spa e senti benessere. Allora, un intervento, uno speech meraviglioso, davvero ci ha fatto sognare. Io direi che più che un architetto è anche un visionario. Eh sì, ha ragione, perché bisogna avere visione quando si progettano le spa. Io sono partito dal mio arido conoscere di architetto, arido nel senso che a fare muri, pavimenti, rivestimenti. Poi ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del benessere, case della vita, mi ha portato all'interno del tuo spazio e mi sono dedicato a questo mondo affascinante che è il benessere. Il benessere è proprio perché il benessere è un'aspirazione a cui tutti quanti tendiamo. Quindi da questo punto di vista io ho dedicato la mia vita professionale al benessere. Mi sono inserito nel mondo degli alberghi e delle spa e ho trasferito le mie conoscenze, la mia volontà di far vivere alle persone delle esperienze emotive fuori dal comune e all'interno degli spazi e degli alberghi. Niente di trascendentale per carità, però la volontà di fare vivere in totale bellezza e in totale comodità un'esperienza alberghiera, cosa che non sempre succede. È vero, confermiamo. Tra l'altro siamo nell'area design qui perché come ho detto all'apertura di puntata c'è un'area dedicata totalmente al design, al breakfast, alle risorse umane. Abbiamo viaggiato anche noi con la fantasia. Beh, mi fa piacere. Devo dire, un paio di esempi molto molto divertente è stato l'esempio dei giapponesi. Lo vogliamo riportare che cosa ha creato all'interno di questo hotel? Sì, nella spa dell'hotel Romeo Napoli ho realizzato in un ambiente una proiezione di petali sul pavimento, ma con una tecnologia tale che passandoci attraverso era come se una ventata aprisse questi petali e facesse volare per aria. È una tecnologia semplice ma divertentissima. Molto d'effetto. Uno non se l'aspetta perché passi in mezzo a queste cose, alle foglie. Come correre in mezzo alle foglie secche? Sì, avrei giocato anche io così. Perché questi signori se lo ricorderanno sempre. Sono talmente divertiti che lo racconteranno. Bellissima l'esperienza emozionale. Poi ho visto questa piscina che riprende il Vesuvio in questo hotel di Napoli. Sì, sì, sì. Ecco, lì in pratica io, come lei ha visto, ho anche pensato alla contestualizzazione. Certo. Perché è alla base di ogni bella realizzazione. C'è quella di fare un ambiente legato al territorio. Bene, a Napoli ho pensato al Vesuvio, ho pensato alla lava. Ecco che ho fatto una cascata che a livello figurativo era di lava, ma in realtà era acqua molto calda, con delle luci rosse che la rendevano veramente simile alla lava. Una piscina tutta rossa, quasi fosse un cono, un cratere, no? E quindi l'esperienza era quella di vivere immersi all'interno di questo spazio lavico. È una cosa meravigliosa, l'architettura del paesaggio del giardino, mettere in correlazione le cose, addirittura farsi il bagno in una vigna è possibile. Sì, certo, quello è un relè chateau che ho fatto in un progetto in Francia e ho avuto la fortuna di fare questo relè chateau all'interno di quello che facevo chiamato Domaine, cioè un territorio coltivato in uva Grenache in cui facevano un vino molto quotato, molto quotato. Ho portato l'esperienza della spa attraverso dei camminamenti facendo degli idromassaggi in mezzo alla vigna. Ma non solo quello, adesso non l'ho fatto vedere, ma c'è anche il percorso per andare nella vigna di notte con dei lettini, con un signore che spiega le stelle, fa vedere il firmamento del buio più totale, in mezzo alla gracidaria di Griglie e le lucciole. Sono esperienze importanti, dai. Esperienze pazzesche, allora davvero grazie perché ci ha regalato un tocco di bellezza, cosa che insomma oggi non è così scontata, soprattutto in questi tempi difficili che viviamo. Vorrei essere un profeta della bellezza, mi fa piacere che lei me lo dica, perché evidentemente sto raggiungendo il mio obiettivo, la ringrazio. Assolutamente sì, peraltro ricordiamo il Grand Hotel di Rimini, quell'hotel di Rimini che è primo in classifica a livello mondiale. Ah beh, l'Hotel Belvedere, l'Hotel Belvedere, sì. Ricordavo che questa signora l'ho incontrata, ha parlato in questo modo, uno speech, ma parliamo di 15 anni fa, mi ha detto, io credo in quello che lei mi ha detto, le affido il mio albergo, avevo una pensione tre stelle, in una decina d'anni, lavorando sulle camere, sulla spa, di qualità totale, è diventato il sesto albergo del mondo come reputazione, è una cosa incredibile. Complimenti da noi, da Mediotel Radio, da Silvia Cangelosi, grazie, buon lavoro. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie, buon lavoro.